TALENTUNO Bellissima la sigla Se anche tu sei un tale di talento Che cos'è il talento ciccio? Che cos'è il talento ciccio? Come si esprime il talento? Come si esprime il talento? Chi decide? Si riparte ogni settimana da zero Come la classifica Hai capito quello che hai detto? Io sì Non fare l'ironico perché questo è uno di pochi momenti Veramente La settimana abbiamo fatto vedere un genio Ti ricordi cipolle e lacrime e tu vedi il pianto ciccio? Si chiamava il piatto piange infatti Lui è un genio, si chiama Montelic Montelic Ne ha mandati un sacco ed è il secondo classificato Vediamo questo film porno Si chiama così ciccio, non guardarmi Fai pure Si chiama così ciccio Conto di crash Questo è Montelic? No E poi ci sono questi sottotitoli Quanta Il romagnolo sottotitolato E' molto bello Si è carina, è carina E' sempre solo che nemmeno il tipo Sai che fa questa roba qua Non è il tipo che lo fa No, scherzi Non si fa sbattere, dai Non si fa sbattere, si fa più sbattere Franco Franco, vuoi venire un attimo? Si, ero sotto E' molto bello che ho sentito Non bisogno di cliccare A parte quel sorriso Questo era il secondo classificato per la categoria cinema e televisione Ho conosciuto un tale Un tale un poco lento Che nonostante tutto era un tale di talento Che aveva del talento Non ci credeva nessuno Per dimostrare il suo talento Il tale è andato a talentuno Se anche tu sei un tale di talento Vieni a talentuno Se anche tu sei un tale di talento Vieni a talentuno Se anche tu sei un tale di talento Vieni a talentuno Se anche tu sei un tale di talento Vieni a talentuno Benvenuti a talentuno Quando ti fischio amarecchio Pensa alla ghianda Grazie a tutti.